Emirati Arabi, Turchia, Stati Uniti, Hong Kong e Francia. La manifattura Orofa e Argentiere è pronta a ritrovare i mercati esteri di riferimento del primo distretto produttivo italiano, una cinquina che vale più del 65% dell'export di settore per un valore di 1,6 miliardi. Ad Arezzo Fiale Congressi, dall'11 al 14 maggio prossimi, torna infatti la 43esima edizione di Orarezzo, la manifestazione, firmata da Italian Exhibition Group, in vetrina la manifattura Made in Italy con tutte le varietà di catene in oro o argento, semilavorati e componentistica, chiusure per collane, assieme ad una sempre maggiore offerta di produzione gioielliera. Con una novità quest'anno, l'evento infatti apre anche alle aziende della filiera del fashion. Confermata poi la vocazione internazionale anche dai player esteri che hanno scelto la manifestazione di Yeg per il loro business. Torna infine anche premier lo storico evento di Orarezzo che ogni anno celebra la migliore manifattura orafa italiana mettendo a confronto creazioni originali sviluppate dalle aziende partendo da un tema condiviso sempre nuovo e diverso tra tradizione e contemporaneità. Il tema proposto dall'art director Beppe Angiolini quest'anno è amore e bellezza. Confermata anche la categoria Talents riservata agli studenti e giovani designer under 30.